Quest'anno ogni famiglia spenderà in media 346 euro per acquistare merce a saldo. Alla vigilia dell'inizio dei saldi, Confcommercio anticipa le previsioni degli affari e torna a chiedere di posticipare la partenza degli sconti almeno a fine gennaio. Una necessità, secondo il presidente di Confcommercio Chieti, che andrebbe a favore sia dei commercianti che dei consumatori. I commercianti eviterebbero di scontare intere collezioni nel bel mezzo della stagione. I consumatori si vedrebbero praticato una percentuale di sconto maggiore in virtù del fatto che si acquistano articoli di fine serie. Dello stesso parere Confesercenti, che oltre a chiedere la posticipazione della partenza dei saldi, evidenzia i punti sfavorevoli e sottolinea il bilancio negativo delle vendite sotto il periodo festivo, quale conseguenza dei comportamenti scorretti da parte di esercenti che con vari escamotage anticipano l'inizio degli sconti. Bisogna rivedere a livello nazionale con gli incontri appunto nelle conferenze di servizio che si facciano chiarimenti su queste date perché noi siamo in perfetta sintonia che i saldi di fine stagione vengano fatti appunto a fine stagione, quindi alla fine di febbraio, al massimo alla prima settimana di marzo. Sono anni che le associazioni categorie lo sostengono, però purtroppo a livello nazionale non si riesce a trovare un accordo così come sono le chiusure domenicali dei centri commerciali. Non si capisce la motivazione, tutti sanno quale sarebbe la strada da percorrere, però nessuno la vuole percorrere. Le prospettive per quanto riguarda gli acquisti staremo a vedere domani e dopodomani, con l'inizio dei saldi in quasi tutte le regioni italiane, come verranno presi d'assalto nelle grandi città i negozi di firme oppure gli autori e da lì si può fare una proiezione se ci sarà un piccolo aumento dal momento in cui sotto Natale si è perso perché si sono ridotti i tempi degli acquisti, i giorni si è lavorato di meno, considerando che ci sono gli escamotaggi tra messaggi in SMS, promozioni che non sono autorizzate e quindi non si possono fare appunto per far sì che le vendite vengano fatte lo stesso. Purtroppo i giorni che si è lavorato si sono accorciati per quanto riguarda Teramo, dal momento in cui poi appunto ripeto con il fatto che ci sono degli escamotaggi che vengono, anche perché la clientela entrando in negozio chiede appunto già uno sconto perché il 5 sa che iniziano i saldi per cui è troppo vicino, poi la temperatura quest'anno non ci ha aiutato perché è stata una stagione mite quindi non si sono venduti i capi spalla, non si sono venduti i capi un pochettino più costosi perché appunto l'utente aspetta il 5 di gennaio che iniziano i saldi. Grazie a tutti.